ebbene sì siamo in un periodo di grande crisi economica ma anche crisi di coppia dice è tanto tempo che siamo insieme ma non si vuole impegnare non si vuole sposare non vuole assolutamente che programmiamo una vita in due insieme ma insomma è innamorato oppure no con un po di logica ci si arriva da soli come diceva benigni quando uno è innamorato è un po come analogamente fare un raffronto con la morte cioè non è che uno è poco morto o troppo morto quando è morto è morto allo stesso tempo quando uno è innamorato è innamorato quindi lo si capisce se non desidera impegnarsi se preferisce allontanarsi quando l'oppressi vuol dire che non è innamorato ed è del tutto inutile forzare premere chiedere cercare di costringere perché l'innamoramento è una cosa tra le più spontanee del mondo o nasce da solo con naturalezza o altrimenti sarà inutile cercare di imporgli qualcosa puoi forse costringere qualcuno a mangiare qualcosa a bere qualcosa a fare un giretto da qualche parte ma non lo puoi certo costringere ad innamorarsi grazie a tutti